Buongiorno, buongiorno e buona domenica 3 gennaio, la prima domenica di campionato dell'anno 2021, la prima partita del 2021, una partita ricca di emozioni per i tifosi del Milan, sì perché gioca il Milan, ma perché affrontiamo questo nostro idolo, io sono pieno di Pippo Inzaghi in casa, questa pagina con la sua autografa comprata sulla gazzetta per salutare i tifosi, là c'è la fotografia di mio figlio che aveva 10 anni con la Coppa dei Campioni, con la Champions League vinta da Pippo, Pippo mio, Inzaghi e gli altri meravigliosi di Carlo Ancelotti, lì c'è una maglia di Pippo Inzaghi, non ne ho molte di maglie, c'ho quella di Zedorf, fra le altre di Pippo Inzaghi, non sono un collezionista di maglie, però quella di Pippo Inzaghi ce l'ho dopo una partita eclatante a Livorno, quindi una partita particolare, non è certo avversario, l'avversario è il Benevento, ha detto nella conferenza stampa di ieri, io sarò il primo tifoso appena finita la partita del Milan, quindi lo aspettiamo poi a San Siro nella prossima primavera e sarà una festa meravigliosa sperando con il pubblico, una partita dicevo di straordinaria emozione, c'è tanta voglia di rivedere giocare il Milan, ha detto bene ieri Pioli, il più bel gol è quello con la Lazio che ci ha permesso di passare delle vacanze, il terzo di Teo Hernandez, delle vacanze in testa alla classifica, un gol importante, dunque io ieri ho messo sul mio profilo Instagram, non potevo mettere la scena per questione di copyright, però l'audio ci poteva essere, proprio la scena di in fuga per la vittoria, quando c'è il gol in rovesciata di Pelé, lo ricordate, un film straordinario di John Huston con grandi attori e grandi giocatori in campo, Bobby Moore, Johnny Walk, Ardiles, Pelé e in quel momento il pubblico ha incominciato a intonare, siamo a Colombe, siamo a Parigi durante l'occupazione nazista e incomincia a cantare Victoire, 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 ecco mi piacerebbe questa sera, speriamo di incominciare il solito video di fine partita intonando proprio questo Victoire, Victoire, piacerebbe una volta sentirlo a San Siro, non è una cosa italiana, è francese, però pensate San Siro intera Victoire, Victoire, sarebbe meraviglioso, un suggerimento ai miei amici della Curva Sud sarebbe, o se volete dire vittoria, vittoria, ma Victoire è ancora più bello. Speriamo che il Milan possa intonare questo coro questa sera, le partite del dopo sosta natalizia sono sempre particolari, sempre complicate, io però ricordo delle parite straordinarie del Milan, ricordo a Roma nonostante il paregio con un gol di Pato e il debutto di Beckham, mi ricordo quella, una partita di grandissima emozione perché vedere Beckham giocare compato signori, questo è spettacolo, ma ha detto Pioli non voglio parlare di passato e Fabio Capello diceva sempre chi guarda al passato non al futuro. Molti invece dicono che il passato può essere di insegnamento, quindi stiamo un po', quando Pioli dice così lo capiamo, stiamo un po' a metà e non guardiamo il passato, guardiamo il presente e il futuro. Il futuro è la formazione del Milan che ha il dubbio di Castiglieco, secondo noi dovrebbe partire dalla panchina, pur essendo convocato, con là davanti Cialanoglu e Rebic a comporre la linea dei tre, con davanti Leao che speriamo sia ben ispirato. Contonali torna che sì, un'altra sicurezza e torna un'altra sicurezza, Chier con Romagnoli, pur perdendo Teo Hernandez. Riusciremo a giocare una partita con la formazione che ho imparato quest'anno, mi piace molto, Onse de Gala, con gli undici di Gala, con gli undici titolari. Oggi il Milan titolare è quello con Benasser e Chessy centrali, è quello con Selemeker, sì, con Selemeker a destra, Cialanoglu, Rebic davanti Ibra, con chi è Romagnoli? Teo Calabria, lo splendido Calabria, il grande Calabria, il nostro Robertson, anche se Robertson è a sinistra, perché non è il nostro Alexander Arnold, perché il piede di Alexander Arnold è ancora più dolce. Però la spinta di Calabria straordinaria è una delle più belle realtà di questa stagione. Il Milan ha trovato il suo titolare, speriamo che continui così, così archiviamo il problema della fascia destra. Dobbiamo trovare solo un'alternativa e lì si va avanti. Belli, sereni e tranquilli con Davide Calabria. Dunque questa è la formazione che Pioli mette in campo nella prima partita dell'anno, la partita contro il Benevento. Un Benevento che ha fermato la Lazio, la Juventus, che ha sofferto all'inizio della stagione con altre squadre di grande caratura, ma sembra abbia trovato l'equilibrio con una buona difesa, con attacco con Caprari e la Padula che mordono sempre gli avversari. Sarà un Benevento senza Iago Falke, che è un giocatore importante per la squadra di Pippo Inzaghi, che potrebbe prendere e trovare Cutrone. Ma stiamo al Milan e attendiamo con ansia, con emozione questa prima partita dell'anno. Il Milan attenderà per forza cosa farà l'Inter e alla fine dell'Inter capirà se l'Inter è ancora dietro un punto, se l'Inter è pari al Milan, secondo risultato, o se l'Inter è avanti due punti, perché l'Inter o pareggia o vince o perde, su questo non ci piove. Dovesse perdere, rimane dietro, dovesse pareggiare a fianco al Milan, dovesse vincere, va due punti avanti. Però il Milan è abituato, anche se non è tanto simpatico sempre giocare con, conoscendo il risultato e conoscendo la classifica. Però il Milan te tragono a ogni emozione, vedo che riesce a non farsi condizionare da classifiche, da pressioni, da tensioni, da particolari patemi d'animo. È un Milan cosciente, è un Milan motivato, è un Milan determinato, è un Milan sicuro, è un Milan convinto, è un Milan con grande fiducia in se stesso. Quindi queste qualità devono essere importanti anche a Benevento. L'inizio della partita dovrà far subito capire al Benevento chi è il Milan, mentre il Benevento cercherà, incomincerà a punzecchiare con questi mordi e fuggi dei suoi giocatori veloci là davanti. Benevento il Milan è una squadra relativamente nuova per la Serie A, non l'ha ancora battuto, una sconfitta in casa è il pareggio del portiere Brignoli che c'ha, o Brignoli secondo se l'espondeo trocaico l'accento, e quindi è una formazione ostica sembrerebbe per il Milan. Ma il Milan ha superato tanti esorcismi, tanti ostacoli che sembravano impervi sulla sua strada. È forte, è difficile da battere, ce l'auguriamo che se lo sia lo dimostri anche contro il Benevento. C'è tanta voglia, il tifoso sta vivendo questi momenti in maniera forte, ha delle sensazioni positive ma delle sensazioni emozionalmente intensissime. C'è proprio l'attesa di vedere il Milan e quindi assolutamente nel prossimo mese ci sarà da abbuffarsi di Milan. Mercoledì Juventus, poi ci sarà sabato Torino, poi ancora Torino Coppa Italia, poi lunedì col Cagliari, poi ancora sabato con l'Atalanta, poi se dovesse battere il Torino ancora la Coppa Italia contro l'Inter o Fiorentina, poi Bologna. Ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Adesso aspettiamo che ritornino i giocatori fuori ma soprattutto facciamo il tifo per quelli presenti. Una partita ostica, difficile, complicata. Vedremo che Milan sarà e speriamo questa sera di cantare Victoire, Victoire, Victoire. Speriamo, speriamo. L'ugola è pronta sia nell'urlare qui da casa mia. Non vado a Benevento, spero che sia una delle poche trasferte che saldi quest'anno ma era complicato sul piano logistico. Non vado a Benevento, farò da questa postazione il video di questa sera e speriamo Victoire, Victoire. Speriamo, speriamo che i ragazzi ci regalino un'altra domenica, la prima domenica del 2021, splendida come tutte le domeniche, i mercoledì, i sabati e i lunedì del 2020. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pilegatti.